la seguente testimonianza è tratta dal libro di padre alessio parente intitolato mandami il tuo angelo custode alle pagine 72 73 e 74 ecco cosa racconta padre alessio parente il maligno apparvi a padre pio sotto diverse sembianze inclusa quella del suo angelo custode ma padre pio scoprì sempre l'inganno pronunciando semplicemente le parole viva gesù lo spirito del male si allontanava immediatamente a questo punto è bene ricordare una mia personale esperienza riguardante padre pio e l'interferenza del maligno dice padre alessio parente benché non riguardi direttamente gli angeli custodi penso sia importante riferirla poiché rivela in che misura e li fosse perseguitato dal demonio una notte nel periodo in cui fui addetto all'assistenza di padre pio gli lavai il viso lo pettinai lo aiutai a togliersi il saio e a mettersi al letto assicuratomi che non aveva più bisogno di nulla sgattaiolai verso la mia stanza l'avevo appena raggiunta quando senti il suono del campanello col quale mi chiamava mi precipitai nella sua cella e quando mi avvicinai padre pio non proferì parola mi abbozzo solo un tenue sorriso ero sempre felice di ricevere un sorriso dal nostro amato padre pio ma in quell'occasione me ne vergogno a dirlo fui un po' seccato perché ero veramente stanco tornai nella mia stanza ed il campanello suonò nuovamente ancora una volta tornai a chiedere se padre pio avesse bisogno di qualcosa ma anche questa volta non disse nulla offendomi solo un altro lieve sorriso questa specie di gioco si ripete molte volte finché alla fine un po' impacciato gli dissi padre lei mi chiama qui ma quando arrivo anziché dirmi cosa vuole lei mi sorride se non mi fa dormire domani dovrà lei assistere me non potrò mai dimenticare il modo con cui mi guardò in quell'occasione con gli occhi pieni di profonda sofferenza mi disse per favore figlio mio mettiti lì sulla poltrona e rimani accanto a me perché i diavoli non mi lasciano in pace un attimo la poltrona di tipo ribaltabile era sempre nella sua cella e sulla quale la notte del 23 settembre 1968 e poi morto capì immediatamente ciò che voleva dire così dopo aver inclinato lo schienale mi sistemai sulla poltrona e lì mi assopì ogni tanto mi svegliavo per controllare come stava e riuscivo distintamente a sentire che bisbigliava sempre l'ave maria sembrava che non avesse più paura perché forse la mia presenza lì impediva il demonio di picchiarlo e di tirarlo fuori dal letto mi piace pensare con un pizzico di orgoglio che quella notte fui il suo angelo custode grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima